Il clima che c'era in Parlamento l'altro giorno quando lui è stato commemorato non si è mai visto in Parlamento. È stato l'ultimo contributo che lui ha dato a questo Paese perché si possa vivere in armonia, conciliati, riconciliati finalmente. Se il clima che abbiamo sentito da Camera e al Senato nel ricordo di Davide fosse quello che porta parlamentari e grandi elettori a votare per il Presidente sarebbe una grandissima lezione, un grandissimo contributo ulteriore che Davide dà alla pacificazione di questo Paese e al progresso e allo sviluppo dell'Italia. Questa è la letta che parla a Camera Ardente di Davide Sassoli. Noi tra l'altro stiamo vedendo in questo momento le immagini dell'inizio dei funerali, l'entrata in chiesa e i funerali a San Marino degli Angeli di Davide Sassoli. Abbiamo prima visto entrare il Presidente Prodi a proposito anche del Quirinale, dello spettro dei 101, insomma di qualcosa che lega tutto in questi giorni, in questi giorni difficili. Allora... Ehm...